Essere responsabile di un team di persone esperte e qualificate che da anni affiancano le imprese nelle valutazioni dei rischi è impegnativo, ma regala grandi soddisfazioni. Nel rispetto del testo unico per la sicurezza che oggi sostituisce la 626 veniamo in azienda e valutiamo con gli imprenditori i locali di lavoro, i macchinari, le attrezzature, il rumore, le vibrazioni meccaniche e i prodotti chimici. Per noi la sicurezza sul lavoro è un valore, non carta inutile e collaborando con il datore di lavoro capiamo cosa è davvero necessario per lavorare in sicurezza. Chi si rivolge a noi? Tutti gli imprenditori che hanno dipendenti, che vogliono inserire collaboratori familiari in azienda, chi vuole aprire un'attività o prendere degli stagisti. Ci occupiamo anche di tutti gli aspetti di prevenzione incendi, gestione rifiuti e normative ambientali. Se siete falegnami, fabbri, verniciate o avete comunque delle sostanze che mettete all'esterno dovete rispettare certi limiti. Noi possiamo aiutarvi ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie e a fare le analisi obbligatorie perché sappiamo che è importante il rispetto per l'ambiente. Se hai dubbi e vuoi sapere come adeguare la tua impresa, ottenere certificazioni di qualità o marcature CE, chiamaci. Siamo disponibili sia a Como che in una delle nostre sedi più vicini a te. Ti offriamo consulenza gratuita e personalizzata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.